Ciao a tutti, oggi è una puntata dedicata a MOBA Fitness dove tramite una coreografia fatta da Elisa Ciao a tutti andremo a lavorare l'interno cosce e i nostri glutei Partiamo subito, seguiteci Hop, allungo Ancora Gli ultimi due Squat, hop Respiro Ancora Ancora due Contrago bene l'addominale Voto fuori l'aria Più veloce Hop 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 Sei passi laterali E Ancora due Mi fermo Marcia Lancio Hop Hop Petto Petto allungo Ancora Hop Quattro passi in avanti Destra Destra Sinistra Shake E Ancora Hop Hop Petto Elisa come va? Bene Cinzia, stiamo lavorando bene Quattro passi in avanti Quattro passi in avanti Shake Lanciati Affondi Destra Lavoro eccezionale Tieni ancora Riprendo da capo Squat Riprendo da capo Squat Ancora Non mollate Crono Più veloce E Stai in passi laterali E Hop Hop Mi fermo Marcia Vado Lancio Hop 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 Petto E Hop Hop Quattro passi in avanti E Shake E Ora Hop Hop Petto L'ultimo Vai Quattro passi Quattro passi Sedici Affondi Abbiamo finito eh Tieni duro Restira Butta fuori l'aria E con oggi abbiamo finito Ci vediamo alla prossima puntata Ciao 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 Ciao